E' una Puglia in assoluta controtendenza rispetto al trend nazionale, dati tutti positivi per quanto riguarda il turismo pugliese. Dal 2005 al 2010 le presenze sono aumentate, dagli 11 milioni circa ai 13 milioni e 200 mila presenze di turisti in Puglia. E' una Puglia orgogliosa per i risultati raggiunti, quella presentata alla BIT di Milano edizione 2011 dal presidente della regione, Nichi Vendola, e dai suoi assessori Lorenzo Nicastro, Dario Stefano e Silvia Godelli. Ma non dobbiamo ricadere in un'immagine folclorica della nostra regione, sottolinea il governatore pugliesi, sì, ma cittadini del mondo, una Puglia proiettata in una dimensione euro-mediterranea. Abbiamo investito molto in porti e aeroporti, dice Vendola, per rendere la nostra regione facilmente raggiungibile per tutti, dagli imprenditori agli studenti. Puglia, chance to explore, scene da esplorare. E' non solo il titolo dello spot presentato e prodotto da Puglia Film Commission, è il senso della presenza pugliese alla BIT di Milano. Scene da film, non solo perché la Puglia offre sempre più location ai set di film italiani e non, ma perché ci sono scenari incantevoli e variegati dal Gargano al Salento. Fra i progetti in programma, ricorda l'assessora al turismo, cultura e mediterraneo Silvia Godelli, la creazione di un cartellone unico Puglia Events, che si aggiunge al portale turistico regionale www.viaggiarinpuglia.it. Una Puglia che è attenta all'ambiente, come sottolinea l'assessore regionale Lorenzo Ricastro, a cominciare dalle leggi contro l'inquinamento da diossina e l'agricoltura costituisce la prima sentinella a tutela dell'ambiente. La valorizzazione del contesto rurale, ha ribadito Dario Stefano, assessore alle risorse agroalimentari, assume una potenzialità notevole nell'ottica della promozione turistica, ma l'agricoltura è anche storia, tradizione da far conoscere e tramandare. In quest'ottica nascono le masserie didattiche pugliesi, che ora sono 58, con progetti di educazione alimentare e percorsi di scoperta del territorio e della cultura rurale. Insomma, un turismo dall'offerta ricca e diversificata. L'obiettivo su cui serve ancora lavorare è quello della destagionalizzazione, per rendere il brand Puglia fruibile per l'intero arco dell'anno.